La notte non si dorme, di giorno bisogna correre dietro 29 direttori generali, 13.000 dipendenti dei quali l'80% assolutamente improduttivi, ma non lo dite ai sindacati, non lo dite ai sindacati, improduttivi, si grattano la pancia dalla mattina alla sera e ora per giunta vogliono stare ancora a casa con il cosiddetto lavoro agile, ma se non lavorate in ufficio come pensate di poter essere controllati a casa? Perdonate questa mia direzione, naturalmente ingegnere, non parlo di lei che invece, no ma lo dico sinceramente molto bravo, soprattutto nella progettazione di impianti elettrici a risparmio energetico, questo va detto l'ingegnere che ha tutta la mia stima e tutta la mia considerazione.